La terra è l'unica casa che abbiamo. Il crollo della biodiversità è veloce e preoccupante. Il clima sta cambiando in maniera accelerata, anomala rispetto al passato, lo sta facendo per colpa nostra. Le risorse sono sempre più scarse, anche quelle che noi consideriamo ancora disponibili. La conoscenza, la consapevolezza da parte delle persone. Siamo nel centro di una crisi, ma abbiamo attraverso la scienza la possibilità di invertire questa direzione. La scienza ci permette di capire molto meglio i problemi che abbiamo di fronte e soprattutto ci può fornire delle soluzioni che i nostri antenati non avrebbero neanche potuto immaginare. Questo è il momento ideale per fare il ricercatore. Seguite i vostri desideri, seguite i vostri sogni. La macchina non può sostituire completamente l'uomo e il suo giudizio. La parola chiave nella transizione è collaborazione. Creare le connessioni opportune. Teniamo sempre l'autorità scientifica come riferimento. Grazie a tutti.